Le USA non sta sulla mia pagina web, la mia pagina Facebook. Edoardo, scriviamo 49 migliaia di migliaia di euro e vedrai che non lo bloccano. Ciao, Ugo da Roma. Sì, ho detto 50 meno 1, 51 meno 2, 48 più 1, la radice quadrata di tipo 2041, va bene. Grazie anche per questi messaggi, grazie per averci seguito anche questa sera.